Incidente mortale nella serata di domenica 25 febbraio poco prima delle 19 in via San Rocco Lombardore. Una Fiat 600 uscita di strada ed è precipitata dal ponte che passa sopra il torrente Fisca. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Torino Stura, Bosco Nero e Volpiano e i binieri del nucleo radiomobile di Venaria. Al momento non si conoscono le generalità del giovane alla guida. Grazie.